Organizzare gruppi ausiliari di imprenditori agricoli per monitorare le aree incolte e abbandonate, intensificare i controlli sulle importazioni, utilizzare per esempio barriere fisiche come le reti antinsetto o i nuovi preparati come l'olio essenziale di arancio dolce per la lotta alle cicaline. Sono alcune delle proposte contenute nel patto per il territorio. Il documento presentato oggi dalla coalizione di produttori consumatori ambientalisti al commissario Giuseppe Siletti. Un incontro a porte chiuse per capire come affrontare la fase 2 del piano Siletti contro l'emergenza Xilella. Non estirpare le piante sane, tutelare le coltivazioni biologiche che rappresentano il 15% della superficie olivicola totale e questa la richiesta delle associazioni. Chiediamo che la lotta all'insetto vettore sia il meno impattante possibile per l'ambiente, ha ripetuto il presidente regionale di Coldiretti Gianni Cantele che non ha escluso il ricorso alla class action. Ci sono dei principi attivi che sono approvati per il biologico, ci sono anche nuovi principi attivi che sono stati approvati dal ministero e per i quali abbiamo la necessità di avere anche un'approvazione da parte del commissario per quanto riguarda l'uso in campagna e che quindi possono risolvere il problema, possono assolvere il problema pensando anche per esempio all'impatto sull'apicoltura, perché questa è un'altra delle problematiche che abbiamo sollevato. Ci sono principi attivi rispettosi che possono quindi evitare di risolvere un problema e poi aprirne degli altri. Il vettore dell'Axilella è stato efficacemente combattuto nella misura straordinaria dell'80% dei casi, ha replicato il commissario Siletti. Questo mi consentirà di proporre una notevole riduzione dell'impiego degli insetticidi focalizzandoli solo sulle zone infette.